Road to 100k, cripto portfolio con denaro reale periodicamente ribilanciato, episodio numero 6. Vediamo quali sono le novità. Lo ricordo ancora una volta che il Crypto Basket scaturisce dalle commissioni di investimento di U-Chain. Che cosa rappresenta Road to 100k? Ve lo leggete, in particolar modo andate, per chi fosse neofita, al primo episodio di questa serie in cui vengono spiegati dettagliatamente anche i rischi connessi alla replica delle sue allocazioni. Disclaimer ve lo leggete, disclosure ve lo leggete e fate attenzione anche agli scam. Vediamo quali sono le modifiche apportate al basket. Siamo entrati in modalità risk off, pertanto si abbassa profondamente la disponibilità ad accettare il rischio di mercato. Sono state smobilizzate più che altro per aumentare il cash operativo all'interno ovviamente del portafoglio. Polygon quasi a prezzo di carico e Bend a protocol realizzando una modesta minus valenza. La debolezza di mercato che sta caratterizzando questi ultimi giorni potrebbe causare possibili test a Bitcoin con nuovi minimi relativi. In tal senso potremmo tranquillamente andare sui 10.000 dollari. Per quale motivo? Perché il market profile sotto determinati livelli di prezzo è a ridicolo sostanzialmente. Non risultano esserci grandi quantitativi di acquisto. Sappiamo che ci sono su determinati livelli ma rotti questi ultimi si scende a piombo ed è per questo motivo che molti commentatori stanno allertando su questo tipo di rischio. In aggiunta considerando purtroppo la ormai nota correlazione con l'equity statunitense in particolar modo il tech delle mega cap ma anche quello asiatico potrebbe partire una quinta onda di un plausibile ciclo eliottiano come viene identificato su questo grafico. Se così fosse dobbiamo aspettarci effettivamente una ulteriore contrazione dell'equity statunitense che si trascinerebbe dietro ovviamente anche i crypto markets. Come sempre andiamo a dare uno sguardo alle contabili del conto e alla composizione del portafoglio. Qui sono riepilogati i trade che sono stati effettuati come potete vedere nella giornata di lunedì grosso modo verso a mezzogiorno. Per chi se lo stesse chiedendo le comunicazioni riguardanti all'update dell'update di portafoglio sono stati dati all'interno della AMA dello stesso lunedì alle 3 di pomeriggio. Quindi un time to market decisamente sensitive. State sempre allerta o su Twitter o eventualmente su YouTube perché gli update sul portafoglio vengono effettuati con poche ore di disamina. Ad ogni modo la logica che sovraintende ROTUS 100K è per chi non l'avesse ancora capito quello di andare a effettuare un cash out tra meno di 3 anni. Quindi costruirlo lentamente anche la curva dell'equity e comprimere il più possibile la volatilità nel suo complesso. Ci troviamo con 5 asset che come potete vedere tutto sommato sono in peso strategico modeste. La convinzione da parte mia è quella di andare a sovrappesare Solana. Qualora si verificherà questa ipotetica nuova capitolazione e potrebbe essere in concomitanza al merge. Cioè il merge di Ethereum anche se andrà bene potrà in realtà scatterare un trigger event sul crypto markets. Se invece dovesse andare male per bug o glitch potete immaginare le conseguenze sui mercati in termini di volatilità. Ormai la liquidità operativa è quasi al 67% vedete oltre i due terzi. Avalanche che era uno dei principali chiamiamoli così motori di performance per ora ha ridotto significativamente il proprio contributo. Questo in relazione a le vicende che hanno caratterizzato Avalanche. L'Upring rimane in portafoglio anche con un peso modesto e lo stesso Near. E' proprio su questi ultimi che probabilmente si andrà a aumentare il peso assieme a un reingresso su Matic. Ripeto qualora si dovesse verificare questo tipo di scenario di mercato. Le operazioni sono anche desumibili come exit dalla cronologia riportata sull'account. Terminiamo come sempre facendo questo tipo di considerazioni. Quelli che sono i prossimi all'ingresso nel crypto market. Che come potete vedere rispetto al passato, alle precedenti episodi, si sono contratti. Ci concentreremo oltre a quelli che abbiamo menzionato prima che sono già in portafoglio. Su Flow, su Anchor e probabilmente anche su Quant. Ripeto in questo momento modalità risk on si deve attendere che determinati eventi che sono attesi sul mercato che potrebbero essere particolarmente generare particolare volatilità li abbiamo alle spalle in modo tale da poter dire che almeno certi livelli di prezzo sono ormai sedimentati e da lì in avanti si potrà costruire lentamente una qualche fase di recovery. Attenzione che richiamando quelli che sono le esternazioni di notte personalità del mondo del crypto asset management soprattutto negli Stati Uniti si narra, si vocifera, si rammenta, si fa presente che tutta questa fase di incertezza, di downtrend, di ulteriore di capitolazioni con tentativi di rebound potrebbe andare avanti addirittura fino alla fine del primo semestre del 2023. Significa mettere in cantiere 7, 8, 9 mesi in cui il mercato produrrà ancora tanta spiacevolezza e per questo che non ha significato rimanere investiti in misura rilevante ma mantenere il più possibile quella disponibilità di cash operativo che servirà poi ad essere iniettata quando ci saranno quelle convinzioni che presumibilmente elevati i grandi rischi sistemici dovrebbero dare soddisfazione al crypto portfolio. Mi raccomando fate attenzione a tutti gli scam e soprattutto qualora abbiate delle perplessità sui rischi nell'andare a replicare queste operazioni rileggetevi il disclaimer e disclosure all'interno dell'episodio numero 1.